Un Open Day alla Salvatore Quasimodo, davvero all'insegna non solo delle competenze da spiegare agli ospiti, ma anche dell'allegria. Si respira davvero un'aria di gioia? Si respira un'aria di gioia per un semplice motivo, perché il benessere dei nostri alunni, la qualità dei rapporti, delle relazioni, è al centro del nostro progetto educativo. Un progetto educativo che da un lato è ancorato alla tradizione con la forza del lavoro e della stima che godono presso le famiglie ormai da diversi anni di oltre 100 insegnanti stabili e dall'altro lato con una grande disponibilità ad accogliere l'innovazione e quindi con una serie di attività che promuoveremo, che abbiamo già promosso quest'anno e che promuoveremo anche l'anno prossimo, all'insegna della tecnologia. Ovviamente sempre con una visione opportuna dell'utilizzo di questi strumenti, perché vanno utilizzati soprattutto sfruttando le potenzialità in ordina, i nuovi modi che i ragazzi hanno da apprendere, quindi non assolutizzando la tecnologia in quanto tale. Colori quali volessero iscriversi alla Salvatore Quasimodo, a chi devono rivolgersi e fino a quando? Allora, io ricordo, ribadisco innanzitutto che il plesso Giovanni XXIII fa parte della Salvatore Quasimodo, quindi le iscrizioni, la segreteria è aperta qui presso la sede centrale, dalle 8 di mattina alle 13, quindi tutti possono venire tranquillamente ad iscriversi. Quindi noi accettiamo le iscrizioni sia per il plesso centrale di via Salonico, sia per il plesso Giovanni XXIII per i tre ordini di scuole, quindi la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. C'è tempo fino al 22 di febbraio, quindi c'è tutto il tempo per poter prendere questa decisione e speriamo di offrire tutto quello che le famiglie desiderano per il loro figlio. Noi pensiamo di poterlo fare.